Il prego regionale veloce di 1.33, presentabile da Piacenza, il direttore di 18.35, e il coordinatore di Arendtio, avruttanarsi dalla linea carta, il regno dei presenti con te, il giro dal Castello Lugliese eia, sono sono il prego, e la день, salutiamo il pietro di San Giovanni, il prego regionale, cattolica San Giovanni, la vince, riso, vado, ma notte, vado, po' sani Italia, valgona la veritima.